sentimentale. Martedì 11 aprile 2017, Azos, segno favorito del giorno per quanto riguarda lavoro e soldi? Beh direi il toro perché per la professione questa potrebbe essere una giornata decisiva per il toro. L'amore? Per l'amore decisamente i gemelli invece perché questa luna vicina a Giove può portare anche un colpo di fulmine. Segno favorito del giorno? È l'acquario perché questa è una giornata davvero di grandi prospettive. Amici è tutto per questo appuntamento con le stelle di Azos. Se volete il vostro oroscopo personalizzato telefonate anche in questo momento e vi prenotate per sabato prossimo tra le 15 alle 17. Noi torniamo domani.